Un nuovo accesso all'aeroporto di Bari che serve tutta l'area metropolitana dall'autostrada di Bitonto attraverso la poligonale e la strada provinciale. L'ampliamento dell'aeroporto Carol Voitila fino a comprendere la zona dell'aeroporto militare con lo spostamento del Cara vicino al CIE e un ponte che colleghi le due strutture. Il sindaco Antonio De Caro che ha fatto un sopralluogo insieme all'assessore regionale Gianni Giannini e i lavori di ampliamento della restazione pensa ai prossimi passi. I fondi? I fondi sono fondi che reperiremo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quel che riguarda l'ampliamento dell'aeroporto. Come area metropolitana possiamo finanziare sicuramente l'allargamento dalla strada provinciale con più stralci e poi chiederemo al Ministero degli Interni di darci una mano per lo spostamento del Cara. Intanto l'ampliamento dell'area est è quasi finito. Quest'area al secondo piano sarà dedicata ai convegni. Al piano inferiore le nuove sale d'imbarco necessarie con l'incremento dei voli internazionali. Tutta la struttura che risponde ai più moderni criteri di efficientamento energetico è anche un percorso simbolico in terra di Puglia. La via del mare con sabbie e conchiglie, la via Lattea nel cielo stellato, le colonne in pietra anticata di forma ottagonale che richiamano Castel del Monte, pannelli presi dai relitti delle barche e San Nicola daranno il benvenuto ai turisti.